Una tragica fatalità, un destino amaro, quello riservato a Marco Carosiello, 41enne residente a Trivento, che ieri ha perso la vita sulla Fondo Valle Trigno, in territorio abruzzese. Erano da poco passate le 23 quando l'uomo che si trovava sul ciglio della strada statale 650 che collega Abruzzo, Molise e Campania è stato investito da un autobus all'altezza di Cupello. Per Marco Carosiello non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei soccorsi. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il punto dove si è verificato l'investimento fosse particolarmente buio vista l'assenza di illuminazione e che il conducente del pullman si sia accorto della sua presenza solo quando ormai era troppo tardi. Sul pullman, partito da Termoli e diretto a Trivento, insieme all'autista, sotto shock per l'accaduto, altri due passeggeri. Perché l'uomo si trovava in quel punto e perché percorreva in piena notte a piedi la strada, questi alcuni degli interrogativi ai quali le forze dell'ordine stanno cercando di dare una risposta, oltre a chiarire la dinamica e le cause dell'impatto. Il traffico ha subito rallentamenti per alcune ore. La salma dell'uomo è stata trasportata nell'obitorio dell'ospedale San Pio di Vasto per le decisioni dell'autorità giudiziaria.